Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come Manca poco al serale di amici e i professori stanno prendendo decisioni sugli allievi da portare con sé Uno di loro ha la maglia sospesa, vediamo cosa è successo.È tempo di bilanci nella scuola di amici I professori di canto e di ballo, in queste settimane, stanno valutando i propri allievi e facendo alcune considerazioni su chi portare al serale Non tutti infatti sono pronti, sia per quanto riguarda gli inediti che le coreografie Nella puntata che andrà in onda domenica 5 febbraio, la maestra Alessandra Celentano assegnerà la prima maglia dorata ad un suo ballerino Nei giorni scorsi, invece, abbiamo visto Emanuello convocare i suoi allievi In sala prova, si sono esibiti Cuomo, Lucia, Sofia e Simone. Le due ragazze hanno mostrato sicurezza e grinta, mentre Cuomo non ha retto alla pressione e non si ricordava le sue coreografie Emanuello ha quindi fatto una prima scrematura e ha riportato in sala prova solo tre ballerini facendo fuori il giovane Nelle prossime puntate assisteremo alla scelta del compagno di Giorgia e degli altri professori Amici, un allievo alla maglia sospesa, le parole del suo prof Per la Cuccarini, il primo nella sua classifica dei cantanti è Mida Per Anna Pettinelli, la favorita è Martina Mentre per Rudy Zerbi il primo nome è Holden Ogni docente cerca di portare il più avanti possibile il suo allievo, ma spesso si ritrova a scontrarsi con il parere dei giudici esterni Domenica scorsa, Elettra Lamborghini, Rocco Hunt ed Alex Britti hanno valutato le cover dei cantanti All'ultimo posto si è classificato Malia, che da quando è entrato nella scuola, circa un mese fa, non è mai riuscito a convincere del tutto gli ospiti della trasmissione Inoltre il casetta ha trovato qualche difficoltà ad inserirsi e ciò ha fatto aumentare le sue insicurezze Nel daytime abbiamo visto il giovane recarsi dal suo professore con la maglia sospesa Rudy Zerbi ha deciso di ridargliela, tuttavia lo ha messo in guardia per le prossime puntate Ci eravamo lasciati dicendo cerchiamo di mantenere la maglia che ti avevo tolto, ma non è andata così Il docente ha spiegato che se anche nella prossima puntata, che vedrà i cantanti sfidarsi con i loro inediti, Malia dovesse arrivare di nuovo ultimo, allora saranno presi dei provvedimenti Molto probabilmente Zerbi penserà di eliminare il suo allievo, come era accaduto in passato a Oli Francisco, squalificato da Anna Pettinelli Ciao